La risposta delle imprese è una risposta affermativa su questo perché proprio la continuità stagionale ci permette di migliorare quelle che sono le condizioni turistiche del nostro territorio che come sappiamo bene la Sicilia attrae in un'area del Mediterraneo. Sappiamo anche che i maggiori flussi turistici così come andrò a dire nel tavolo sono circa a livello internazionale sono nell'area del Mediterraneo, più del 40% degli arrivi turistici sono nel Mediterraneo e la Sicilia si propone in un'area insieme alle altre competitor internazionali del Mediterraneo e quindi così come fanno gli altri paesi del Mediterraneo lo può benissimo fare la Sicilia, benvenga la continuità stagionale che permetterà alla Sicilia un sviluppo turistico ma anche un indotto diretto indiretto di un'economia che deve risollevarsi nella nostra isola.